Scene da brividi nel veneziano. Intorno al 1.30 di stanotte, un giovane 22enne si è schiantato contro la ringhiera di un ponticello di un canale di scolo, tra Malcontenta e Dogaletto, a Mira. L'auto ha immediatamente preso fuoco, rimanendo sospesa verticalmente in condizioni precarie. Impressionanti le immagini. L'autista, rimasto ferito ad una gamba, è riuscito a destreggiarsi e fuggire in tempo dal mezzo in fiamme, rimasto in bilico sul ponticello. Tanta la paura. I vigili del fuoco, corsi in soccorso da Mira e Mestre, hanno prontamente spento l'incendio. Il conducente dell'auto, riuscito a mettersi in salvo, è stato subito presso in cura dal personale del SUEM, per essere stabilizzato e trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso di vigili del fuoco sono terminate a notte inoltrata, con il recupero dell'auto da parte del soccorso stradale. Sul posto anche le forze dell'ordine, per i rilievi del sinistro.